I carabinieri della stazione di Marsala hanno arrestato un 25enne residente a Marsala in ottemperanza a un ordine di esecuzione di pene concorrenti. Il provvedimento è stato emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Marsala a seguito di una sentenza di condanna a 4 anni e un mese di reclusione per reati contro il patrimonio. In particolare, le indagini dei carabinieri avevano permesso di identificare nell'arrestato il responsabile dei reati di furto in appartamento aggravato e falsità nella dichiarazione sostitutiva per ammissione al gratuito patrocinio commessi a Marsala nel 2018. I gravi indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri hanno sostenuto la tesi dell'accusa fino all'emissione della sentenza di condanna definitiva. Al termine delle formalità di dito, i militari dell'arma hanno condotto il 25enne presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani.